conversano santa maria assunta l'interno pulizia architettonica maestosità delle linee e solennità ordinata questo è l'interno della cattedrale conversa un piacere per gli occhi bello nonostante i tanti rifacimenti bello e per nulla banale nonostante i tanti rifacimenti bello e per nulla banale nonostante i tanti rifacimenti bello e per nulla banale Grazie a tutti. Grazie a tutti.